Prova Marchisio, Chiellini, alla via per Giaccherini, uno contro uno, va al cross sul secondo palo dove c'è Pogba, cancio straordinario di Pogba che poi va al cross, deviato, secondo palo, attenzione Giaccherini, 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 forse il gol che può valere lo scudetto al 92esimo, Giaccherini dalla panchina, Juve a più 9. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!